8 milioni di euro è ciò che ha fruttato la movimentazione di falsi prodotti bio effettuate dalle nuove aziende ragusane e siracusane, denunciate presso l'autorità giudiziaria Eblea durante l'operazione Simbiosi, condotta dalla Guardia di Finanza di Modica e coordinata dalla Procura di Ragusa per frode in commercio ed evasione fiscale. L'indagine condotta dall'inizio del 2017 ha di fatti posto fino alla truffa aggravata di queste aziende nei territori di Modica, Scichili, Ispica, Ragusa, Pozzallo, Acate, Vittoria, Siracusa e Bologna, ai danni dello Stato e della comunità europea, che in teoria erano dedita al biologico e che invece di biologico avevano ben poco, tanto che quando la domanda dei consumatori superava l'offerta del prodotto biodisposizione ricorrevano a prodotti convenzionali ed alteravano i risultati delle analisi chimiche sui campioni dello stesso. Così confezionavano un prodotto convenzionale ma lo vendevano per bio, etichettandolo con la fogliolina verde simbolo della produzione biologica e biodinamica. Un commercio che oltre all'Italia aveva come destinatari la Germania, la Francia e l'Inghilterra. Sono stati infatti rinvenuti 10.000 chili tra prodotti chimici, fertilizzanti e concimi vietati nell'agricoltura bio. Per alcuni finanzieri sono anche riusciti a risalire i fornitori di questi, smantellando un sistema di evasione fiscale di circa 200.000 euro. In merito alla vicenda ha preso parole il presidente dell'ordine degli agronomi di Ragusa, Franco Celestre, che ha fatto leva sul concetto di correttezza. Sarebbe più corretto, ha infatti dichiarato, che quando un imprenditore non riesce a rispettare i canoni imposti dal Ministero e dall'Unione Europea in merito alla produzione bio, passando a quella convenzionale, comunicasse il passaggio con trasparenza ed onestà. Sarebbe un atto di rispetto verso la concorrenza, verso il consumatore finale e chi lavora con onestà. Occorre preparazione e professionalità per produrre bio, ha poi continuato Celestre. Produrre biologico significa di fatti non utilizzare concimi chimici e pesticidi, ma effettuare la concimazione con principi attivi e debellare le possibili malattie con sostanze non inquinanti. Questo ovviamente a costi elevati, sia di produzione che di acquisto per i consumatori, che pagano di più per avere un prodotto bio. Questa frode con truffa del biologico ha recato un danno a tutto il settore agricolo italiano, ha affermato il segretario nazionale del CODA con Francesco Tanasi. Ciò ha anche rotto gli equilibri della concorrenza ed ha recato danno anche a quelle aziende che il biologico lo fanno davvero, in quanto hanno avuto a disposizione i fondi, le agevolazioni e gli aiuti tipici dei piani di finanziamento e di sviluppo nazionale europeo per incentivare le coltivazioni biologiche. Fondi che invece verrebbero a mancare a chi lavora onestamente. Tanto il CODA, CONS quanto l'Ordine degli Agronomi chiedono che vengano attivate le giuste sanzioni per i soggetti autori della truffa.